Bene, io ti ringrazio, non vi resta altro che leggervi se siete curiosi e magari se vi riconoscete anche in questa nuova generazione, per alcuni un po' distrutta, per altri come quella francese capace di far cambiare le leggi di un governo, quindi a voi la scelta di somigliare all'uno o l'altro. Intanto leggete che vi va sempre bene. Cuba Libre, l'ultimo romanzo di Pia Francesco Grassetti, Mursi Editori. Grazie. Grazie.